Buonasera, sono Bruce Edelstein, sono onorato di presentare il professor Scafai questa sera e sono il co-coordinatore con la professoressa Cox di questa serie di conferenze. Niccolò Scafai è professore associato a Lausanna dal 2010, si è formato alla scuola normale superiore di Pisa dove ha conseguito il diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Prima di Lausanna ha lavorato all'Università di Bergamo e all'Università di Siena-Rezzo. Inoltre ha collaborato con il CNR sull'opera del vocabolario italiano presso l'Accademia della Crusca ed è membro della Società per lo studio della modernità letteraria e dell'Associazione Italiana di Teoria e Storia Comparata della letteratura. Le sue ricerche riguardano la poesia contemporanea, le forme narrative brevi, i rapporti tra la letteratura e la storia del secondo novecento e gli incroci tra i generi letterari. Ha scritto, tra gli altri, su Montale, Sereni, Gadda, Calvino, Bassani, Bilenchi e Primo Levi. Tra i suoi libri, Montale è il libro di poesia del 2002, il poeta e il suo libro, Rettore che è storia del libro di poesia nel novecento del 2005, La regola e l'invenzione, saggi sulla letteratura italiana nel novecento del 2007 e più recentemente il lavoro del poeta, Montale, Sereni Caproni, del 2015. Dirige la rivista dell'Associazione di Comparatistica Italiana, Between, ed è membro dei comitati scientifici delle riviste Italianistica e Semicerchio. Stasera ci parlerà di legami nei libri di Primo Levi, Se questo è un uomo, è la tregua, suggerite dall'epigrafe a quest'ultimo, Tornare, mangiare e raccontare. Diamo il benvenuto al professor Scafai. Grazie, grazie per questa bella presentazione, grazie per l'invito da professoressa Virginia Cox e grazie alle collaboratrici e collaboratori che in questi mesi hanno preparato l'incontro di oggi e grazie naturalmente al pubblico che è qui presente questa sera. Vi ho preparato un handout con alcune delle citazioni che leggeremo, almeno in parte, durante la conferenza. C'è anche qualche immagine non così essenziale per seguire quello che dirò, ma mi piaceva cominciare mostrandovi un'immagine che trovo molto bella di Primo Levi davanti a una platea scolastica alla quale racconta, porta la sua testimonianza. Il titolo, come è stato adesso ricordato, dell'incontro di questo pomeriggio, tornare, mangiare, raccontare, si riferisce a tre verbi che si trovano nella poesia collocata in epigrafe al libro della tregua, cioè il secondo libro di Primo Levi. Le tre azioni, tornare, mangiare, raccontare, sono evocate in sequenza. Leggiamo dunque la poesia che è al punto uno delle fotocopie che sono state distribuite. Sognavamo nelle notti feroci, sogni densi e violenti, sognati con anima e corpo, tornare, mangiare, raccontare. Finché suonava breve, sommesso, il comando dell'alba, stavacce, e si spezzava in petto il cuore. Ora abbiamo ritrovato la casa, il nostro ventre è sazio, abbiamo finito di raccontare, è tempo, presto udremo ancora il comando straniero, stavacce. Questa poesia che ho letto è datata 11 gennaio 1946, vale a dire è stata datata pochi mesi dopo il rientro di Levi a Torino. Queste sono le copertine di Se questo è un uomo, torneremo a parlarne. Questa è una brevissima, essenziale cronologia dei fatti per rendersi conto appunto che Levi rientra dopo la deportazione, la prigionia e un lungo viaggio a Torino soltanto nel 19 ottobre del 1945. E dunque questa poesia che ho letto introduce già sulla soglia del secondo libro il doppio tempo che connota la narrazione di Levi. Quindi il tempo del lager, diciamo, è il tempo della scrittura, il tempo dell'io o del noi narrato e il tempo dell'io narrante. Le due strofe della poesia, che avete sulle fotocopie, corrispondono più o meno a questa ripartizione, come indicano nel modo più semplice e diretto i tempi verbali. Il tempo storico, l'imperfetto, che domina e scandisce la prima parte della poesia e invece nella seconda metà l'uso non esclusivo ma prevalente del presente e del futuro. Ma alla successione cronologica suggerita dall'avvicendarsi dell'imperfetto e del presente non corrisponde un pieno ed effettivo sviluppo del tempo, del tempo mentale e del tempo morale soprattutto. Infatti, a un livello primo, a un livello materiale, le azioni desiderate nella prima strofa, tornare, mangiare, raccontare, sono state compiute. Ma ad un livello più profondo, l'io, e in qualche modo noi, insieme a questo io, sappiamo, proviamo, che il tempo esterno, che scorre in modo lineare, conta meno del tempo interiore, che può fermarsi, che può anche regredire. In questo senso, la poesia sulla soglia, la poesia in limine al testo della tregua, corrisponde a quella ancora più famosa, che invece si trova all'inizio di Se questo è un uomo. La poesia a cui Levi darà il titolo di Scema, è una sorta di rilaborazione di una preghiera. La poesia in cui si legge la frase famosa Meditate che questo è stato. Meditate, scrive Levi, perché senza la consapevolezza degli eventi e della loro natura, ciò che è stato può, anzi, fatalmente, ancora una volta sarà. Ma la corrispondenza tra le due poesie, non, cioè Scema è quella che ho appena letto, non assimila del tutto l'una all'altra. La differenza maggiore è forse questa, ovvero che Scema, la poesia Scema, è come un monito, che come tale prevede la possibilità di scampare all'anatema attraverso l'esempio. Mentre invece la poesia che apre la tregua, sognavamo nelle notti feroci, esclude ogni salvezza e guarigione, e lo fa anche attraverso la struttura elementare, se volete, certo paradigmatica, delle due strofe, sigillate in un cerchio inesorabile dalla parola conclusiva, quella strana parola, Stavac, che in polacco, la lingua di Auschwitz, per l'appunto, significa alzarsi. A ben guardare si potrebbe dire che anche il monito, cioè la via di scampo annunciata in Scema, esiste sì, ma esiste per un voi, cioè diciamo che esiste per noi tutti che non abbiamo sperimentato quell'esperienza, ma invece per il noi, per il noi esclusivo che comprende Levi e gli altri prigionieri, non c'è che il perpetuarsi, il proseguire dell'offesa, non c'è che la coscienza della natura insanabile dell'offesa, come scrive per l'appunto nella tregua. Il tempo presente, in cui ogni desiderio essenziale provato nel lager, sembra soddisfatto, ora siamo tornati, abbiamo ritrovato la casa, il nostro ventre è sazio, tuttavia si rivela, quel tempo, una condizione solo transitoria, peraltro questo è uno dei significati del titolo La Tregua, transitoria, se non proprio uno stato illusorio, un sogno contrario, ma tragicamente equivalente, a quello sognato nelle notti feroci, notti che in realtà non sono mai terminate. Il breve confronto tra le due poesie in limine, ai rispettivi libri, rappresenta, come dire, la parte per il tutto. Come quei due testi, infatti, così anche i libri che ne vengono introdotti, se questo è un uomo e la tregua, hanno elementi di reciproca corrispondenza, ma esprimono condizioni e intenti ben distinti. Se il primo libro vuole essere anche uno studio pacato dell'animo umano, come scrive Levi nella prefazione, cioè oggettivo, realistico, persino didascale, con un libro monito, appunto, il secondo libro è un racconto più soggettivo, dove per soggettività si intende quella del narratore, ma anche quella dei molti personaggi che proprio nella tregua acquistano una individualità e anche una loro espressività, che erano invece qualità interdette in Se questo è un uomo. Dati questi elementi ancora molto generali di confronto, prenderemo in considerazione alcuni aspetti della tregua che assumono un rilievo specifico proprio per la differenza rispetto a Se questo è un uomo. Le tre azioni, i tre verbi della poesia iniziale, tornare, mangiare, raccontare, rappresenteranno altrettanti connotati emblematici intorno a cui si concentrano elementi sia tematici sia formali della narrazione della tregua. Così il verbo tornare diviene, nel senso che proviamo a dargli questa sera, una parola emblema della continuità, prima di tutto biografica e fattuale, tra le vicende dei due grandi primi libri di Levi. Diciamo pure la storia. Mangiare sarà invece parola emblema del modo in cui la narrazione si realizza e intendo modo, la parola modo non in senso generico, ma secondo la definizione datane a livello teorico, da, tra gli altri, con grande precisione, trovo da Remo Cesarani, un comparatista italiano scomparso pochi mesi fa, ovvero modo come insieme di procedimenti retorico-formali, atteggiamenti conoscitivi e aggregazioni tematiche, scrive Cesarani, forme elementari dell'immaginario, storicamente concrete e utilizzabili da vari codici e da vari generi. Tornerò dopo sulla differenza e sulla sua funzione in quello che dirò tra genere e modo. E ancora, per ultimo, il verbo raccontare, che è la parola all'insegna della quale prenderemo in considerazione forme e strutture del racconto, proprio narratologicamente inteso, cioè della organizzazione dei contenuti all'interno del testo. Tornare, dunque, al primo verbo. Come indicato dallo stesso Levi nelle note alla edizione scolastica del suo secondo libro, la tregua, scrive Levi, è seguito e risoluzione di Se questo è un uomo, perché ne riprende la vicenda quasi esattamente dal punto in cui rimaneva interrotta nel libro precedente. Più precisamente, la storia di Se questo è un uomo termina, come sappiamo, il 27 gennaio del 1945, cioè la data della liberazione, dell'arrivo, insomma, alle porte di Auschwitz da parte della Armata Rossa. È la fine del capitolo Storia di Dieci Giorni, l'ultimo di Se questo è un uomo, ma il primo a essere stato composto in forma di diario e anche per questo scritto con uno stile, con una forma più referenziale, più riassuntiva, compendiaria. Così dunque Levi scrive nel finale di Se questo è un uomo. «I russi arrivarono, mentre Charles ed io portavamo somoghi poco lontano, era molto leggero, rovesciamo la barella sulla neve grigia». Fine della citazione. Come vedete, come avete sentito, ogni spiegazione storica qui è evitata, perché i russi arrivarono. Ovviamente lo sappiamo, ma non ce lo dice esplicitamente Levi in quel punto. Così come è omesso quasi ogni riferimento all'esito immediato di quella liberazione per Levi e per gli altri prigionieri usciti da Auschwitz. Si fa cenno, sì, in quel finale, a incontri e a notizie successive, ma si tratta per lo più di anticipazioni di ciò che avverrà di lì a poco nel campo di sfollamento, oppure si tratta di vaghi annunci di ciò che alcuni di quei prigionieri vivranno una volta tornati a casa dopo molto tempo. Quello che manca, dunque, quello che manca nel finale di Sequestro un uomo è ogni accenno al viaggio, al vero e proprio viaggio di ritorno. Dunque, rispetto alle ultime battute del racconto di Sequestro un uomo, l'inizio della tregua rappresenta, in effetti, sì, una continuazione, ma anche, come dice perfettamente Levi, una risoluzione, cioè porta a compimento ciò che in Sequestro un uomo restava implicito o elittico, adempia il racconto non solo proseguendolo, ma anche integrandolo. D'altra parte, a ben guardare, le lacune nel finale di Sequestro un uomo sarebbero piuttosto singolari, pensando alla esattezza didascalica altrove mostrata da Levi nel raccontare, per esempio, la vita nell'hacker. E non conta neanche il fatto che il capitolo Storia di Dieci Giorni sia stato scritto per primo, perché successivamente Levi avrebbe potuto integrarlo con altre notizie. Come si spiega dunque questa elitticità, diciamo, del finale di Sequestro un uomo? Beh, si spiega, io penso si possa dire, si spiega riflettendo sulla coincidenza cronologica tra la stesura di Sequestro un uomo e la ideazione, e probabilmente la stesura di parte, almeno, della tregua, i cui primi capitoli sono stati, come sembra di poter confermare, sono stati perlomeno composti in una prima versione a ridosso di Sequestro un uomo. Quindi la dialettica di omissione, integrazione o risoluzione che mette in rapporto i due libri è da valutare anche come effetto di una strategia narrativa o almeno come conseguenza, diciamo, di una economia nella gestione della materia narrata. Strategia o economia che suggeriscono di, peraltro, quanto in Levi fosse già matura la capacità di gestire il racconto, Levi dice di essere divenuto scrittore per una, per parola che peraltro ha messo del tempo ad accettare, per una impetuosa necessità di testimoniare, ma quell'impeto non è mai qualcosa che domina lo scrittore, è un'istanza controllata, gestita, anche narrativamente. Levi dice, insomma, stabilire priorità narrative. L'idea di scrivere il libro, che più tardi sarà la tregua, in effetti è precoce. Già nel, ecco, già nel 47, mentre, se questo è un uomo, è in corso di stampa, Levi scrive a Jean Samuel. Jean Samuel è il personaggio, è il nome vero del personaggio che, in Se questo è un uomo, Levi chiama Piccolo, o la K, quella qui cerca di tradurre in francese il canto di Ulisse, tanto per, se ricordate, appunto questo passo famoso. E accenna al Piccolo il progetto di un secondo libro. Se però il mio libro sul Lager dovesse riscuotere successo, cercherò di scriverne il seguito, ovvero di raccontare il mio lungo e curioso viaggio di ritorno attraverso l'Europa orientale. Il lungo e curioso viaggio corrisponde a questa mappa che Levi mise proprio in apparato, diciamo, alla tregua. torneremo a parlare di queste tappe che in gran parte sono tappe ferroviarie piuttosto involute, come vedete. La stessa intenzione viene comunicata al critico Arrigo Kayumi che era stato tra i pochi a recensire positivamente la prima edizione di Se questo è un uomo del 1947. Non appena il mio mestiere me ne lascerà il tempo intendo scrivere un secondo libro che del primo sarà completamento la storia del mio lunghissimo viaggio di ritorno attraverso la Russia prossima e i Balcani. Ecco, anche alla luce di queste dichiarazioni si può ragionevolmente pensare come fa il massimo studioso e conoscitore dell'opera di Levi cioè Marco Belpoliti che i capitoli iniziali della tregua siano prossimi a Se questo è un uomo non solo per tono e contenuti ma anche per le date 46-47 di una loro prima stesura. Qui abbiamo più o meno quella che dovrebbe essere la ricostruzione di una situazione genetica. Lo stesso Levi in una conversazione con Carlo Paladini dichiarerà di aver scritto uno o due capitoli della tregua già nel 47-48 sollecitato da Antonicelli che era stato suo editore e da Alessandro Galante Garrone due intellettuali torinesi piemontesi a cui Levi racconterà tra i primi dei racconti orali sul suo viaggio e poi saranno Antonicelli e Galante Garrone tra gli altri a spingerlo a scriverne. Anche Fiora Vincenti autrice di una monografia su Levi del 73 importante perché scritta con la consulenza diretta di Levi afferma che l'ideazione del libro sarebbe ben precedente all'epoca della sua stesura distesa 61-62 e in particolare la traccia del futuro libro e poi anche se volete la base del suo sviluppo narrativo sarà un appunto ferroviario questo è Levi che lo racconta in cui Levi aveva annotato le tappe del viaggio di ritorno verso l'Italia e a cui poi si sarebbe affidato per ricostruire con la memoria le vicende della tregua. Ci sono ancora altri indizi per esempio in un quaderno a lungo conservato da Giovanni Tesio intitolato Per Einaudi Tesio dice è un quaderno della metà degli anni 50 Tesio dice che c'era anche una versione primitiva della tregua quindi quasi un decennio prima della sua effettiva stesura uso appunto condizionali perché di questo quaderno si sono un po' non perse le tracce ma si è persa l'accessibilità se volete lo stesso Belpoliti nella recente edizione di fatto non ha potuto non ha potuto vederlo quanto sarebbe stato utile una parte importante della tregua quello che diventerà poi il capitolo intitolato Katowice era stato anticipato nel 59 circostanze e indizi dunque fanno pensare a una sovrapposizione sia pure parziale tra la stesura di se questo nome e quella della tregua rendendo plausibile l'ipotesi che Levi nel continuare sì il racconto di un libro o nell'altro abbia però deliberatamente riservato alcune risoluzioni integrative e solo al secondo il quadro storico che leggiamo all'inizio della tregua manca in se questo è un uomo come abbiamo visto pur riferendosi a un tratto del racconto comune l'incipito della tregua che non è nelle fotocopie ma è qui è questo nei primi giorni del gennaio 45 sotto la spinta dell'armata rossa ormai vicina i tedeschi avevano evacuato in tutta fretta il bacino minerario Slesiano cioè la Slesia la regione storica in cui si trova Auschwitz mentre altrove in analoghe condizioni non avevano esitato a distruggere col fuoco con le armi i lager insieme con i loro occupanti nel distretto di Auschwitz agirono diversamente ordini superiori imponevano di recuperare a qualunque costo ogni uomo abile al lavoro vedete molta referenzialità storica definirei il brano in questione come un adempimento di tipo oggettivo o appunto storico categoria a cui si affianca però nella tregua anche quella dell'adempimento soggettivo o se volete personale l'esempio direi flagrante di un adempimento soggettivo riguarda la figura di Vanda Maestro amica probabilmente anche oggetto di un affetto da parte di Levi che compì insieme a Levi il viaggio verso il lager intorno alla sua sorte e intorno al suo stesso nome il narratore disse questo uomo fa calare una cortina di reticenza scrive solo questo ne disse questo uomo accanto a me serrata con me come me fra corpo e corpo era stata per tutto il viaggio una donna ci salutammo e fu breve ciascuno salutò nell'altro la vita è Vanda questa donna ma in sé questo uomo in effetti non viene nominata ovvero viene nominata in una scena piuttosto secondaria precedente alla deportazione una scena lieta è una sorta di picnic o banchetto organizzato prima della deportazione viene fatto il nome di Vanda ma non si sa chi sia questa Vanda e quale ruolo avrà nella tregua ogni reticenza viene dissipata invece dopo la liberazione dal campo Levi incontra una partigiana ebrea croata Olga che era rifugiata in Italia e poi da lì era stata deportata per questo parla italiano e Olga conosce il destino che è toccato ai compagni di deportazione quelli che su vagone piombato avevano viaggiato con Levi in particolare sa cosa è accaduto alle donne perché era stata rinchiusa a Birkenau che era la parte dell'universo Auschwitz in cui c'era il campo femenile oltre ai forni leggo da dove dice Olga erano morti tutti tutti i bambini e tutti i vecchi subito delle 550 persone di cui avevo perso notizia all'ingresso in lager solo 29 donne erano state ammesse al campo di Birkenau di queste 5 sole erano sopravvissute Vanda era andata in gas in piena coscienza nel mese di ottobre lei stessa Olga le aveva procurato due pastille di sonnifero ma non erano bastate ora il capitolo da cui è tratto il brano che ho letto è intitolato il campo grande è il secondo della tregua e corrisponde a una di quelle parti dunque che Levi avrebbe scritto in una prima versione a ridosso di se questo è un uomo anche se nel quaderno manoscritto è datata 12 dicembre 61 non è possibile non so dirvi quindi se quel passo sia all'incirca contemporaneo se questo è un uomo o se sia successivo di conseguenza non sapere anche dire se l'adempimento soggettivo come dicevo cioè la esplicitazione del nome e del destino di Vanda siano spiegabili come il semplice effetto della distanza che rende più dicibile ciò che a caldo viene traumaticamente censurato certo è che in se questo un uomo la reticenza è parte costitutiva della struttura narrativa se questo un uomo è un libro pieno di atti narrativamente mancati se mi passate questa espressione la tregua no la tregua scioglie risolve e anche in questo senso è particolarmente così significativo la parola significativa la parola risoluzione che usa Levi il narratore se questo un uomo è quello della tregua dunque pur avendo lo stesso grado di conoscenza ed esperienza dei fatti fanno scelte diverse l'uno tace ciò che l'altro racconta in modo più esplicito a questa maggiore propensione al racconto corrisponde anche la adozione di un diverso modo nel senso prima spiegato quel modo che come ho detto all'inizio collochiamo all'insegna del verbo mangiare e perché il cibo il cibo era un'ossessione per i prigionieri appena liberati stremati da una disumana inedia che come spiega Levi questo già in sé questo un uomo non corrisponde non è paragonabile a ciò che nella vita normale chiamiamo fame scrive Levi anche a proposito di questo che se il lager fosse durato di più se si fosse affermato quel sistema nuove parole sarebbero state necessarie per definire le condizioni imposte agli esseri umani una nuova lingua appunto la lingua terzi terti imperi come scrivere come intitolerà Victor Klemper un suo saggio così fondamentale per capire certi aspetti anche della dialettica nazista un'ossessione dunque quella per il cibo del tutto naturale e tuttavia come hanno spiegato gli studi sulla liberazione dai campi è spesso letale per l'organismo dei prigionieri è stato recentemente trattato in italiano un libro del 2015 dello storico Dan Stone la liberazione dei campi la fine della Shoah e le sue eredità in cui ricostruisce molto bene io trovo proprio questo il contesto della tregua parla anche di primo legge ma ci fa vedere ci spiega che cos'era la liberazione e cosa non era cioè niente di trionfale ed euforico nella tregua la ricerca del cibo oltre che realistica esigenza diviene però anche un elemento significativo della narrazione sia perché ne rappresenta uno dei motivi spinta che mettono cioè in moto l'avventura la ricerca del cibo banalmente sia perché il cibo evoca per il narratore una dimensione di corporeità di corporalità che dà spesso a volte al racconto una luce quasi favolosa o fiabesca la citazione tre delle fotocopie è abbastanza eloquente a questo riguardo scrive Levi che quello fu un periodo di assurda abbondanza non subito dopo l'uscita è un brano un poco dopo c'era carne di cavallo per tutti senza alcuna limitazione gratis tutt'al più i cacciatori chiedevano per un cavallo morto due o tre razioni di tabacco in tutti gli angoli del bosco e quando pioveva anche nei corridoi e nei sottoscala della Casa Rossa dove erano il gruppo degli italiani si vedevano uomini e donne affaccendati a cuocere enormi bistecche di cavallo con i funghi senza le quali noi revici da Auschwitz avremmo tardato ancora molti mesi a riacquistare le nostre forze in molti casi gli episodi della tregua in cui vengono raccontate un'avventurosa ricerca di cibo o la sua imprevista abbondanza assumono un connotato carnevalesco ora precisiamo che cosa si intende sarebbe improprio ridurre il secondo libro di Levi a questa sola componente esagerandone per esempio in maniera troppo radicale l'opposizione rispetto alla tragedia di sequestro un uomo come già abbiamo a parte detto parlando della poesia iniziale la tregua è chiusa in un cerchio di inesorabile pessimismo cioè dalle notti del lager non si esce la natura dell'offesa rimane insanabile per questo come dicevo poco fa trovo più indicato parlare di modo carnevalesco piuttosto che di genere comico per esempio perché genere potrebbe darci l'idea che la tregua appartenga a una sorta di codice tutta la tregua tutto il libro mentre invece il modo come spiega Cesarani è un insieme di procedimenti che possono applicarsi a codi a generi diversi procedimenti e temi presenti ma non coincidenti con l'intero libro il termine carnevalesco è da intendere almeno lo vorrei intendere qui nel senso più se volete classico cioè quello dato alla parola dal che ricaviamo insomma dal famoso saggio di Michael Bakhtin cioè l'opera di Rabelais e la cultura popolare Bakhtin parla tra l'altro come è noto delle immagini del banchetto in Rabelais nel capitolo quarto dice che tutte le immagini del bere e del mangiare hanno in Rabelais una forte tendenza all'abbondanza all'universalità che determina la formazione di tali immagini la loro iperbolicità positiva e il loro tono trionfale e gioioso ora è ovvio insomma le date distanza culturale distanza linguistica rendono è tutto impossibile pensare che Levi avesse solo nozione a quell'altezza almeno cronologica nozione di Bakhtin tuttavia l'autore su cui il teorico russo ha forgiato la categoria di carnevalesco è Rabelais appunto che è uno degli autori più cari a Primo Levi che più volte vi fa riferimento nel sistema periodico ad esempio Levi racconta che quando si trasferì a Milano per il suo primo impiego in una fabbrica dopo la laurea portò con sé dice Levi le poche cose che sentiva indispensabili la bicicletta Rabelais Moby Dick tradotto da Pavese e da altri pochi libri ancora nella antologia personale che Levi curò negli anni 80 per Inaudi la ricerca delle radici intitolata Levi inserisce anche Rabelais in un capitolo intitolato meglio scrivere di riso che di lacrime dedicato proprio al Gargantuae Pantagruel opera scrive Levi in cui sarebbe difficile trovare una sola pagina triste eppure il sabio Rabelais conosce bene la miseria umana una traccia rabelaisiana la troviamo anche nel libro di racconti fantastici storie naturali più o meno contemporaneo della tregua esce tre anni dopo infatti il titolo del libro è una citazione di una citazione cioè cita Rabelais che a sua volta cita Plinio da qui avrebbe preso il titolo storie naturali primo Levi Pantagruel compare ancora in un altro libro di racconti vizio di forma ma per concludere questa digressione quello che più conta per noi è che allusioni dirette alle qualità rabelaisiane dei personaggi si trovano proprio direttamente nella tregua per esempio il personaggio di Noah del quale ci saremo leggesta più avanti viene detto che questo Noah era un giovanissimo Pantagruele forte come un cavallo vorace e salace o ancora nel capitolo intitolato una curizzetta e anche di questo diremo qualcosa descrivendo la enorme latrina del campo di sfollamento il narratore osserva come questa latrina fosse dotata di un piancito di tavole sconnesse cento buchi quadrati dieci per dieci come una gigantesca rabelaisiana tavola pitagorica e si noti peraltro il livello basso comico davvero rabelaisiano anche del soggetto a cui Levi applica questa definizione certo diversamente dall'opera di Rabelais la tregua non può dirsi un libro privo di pagine tristi tutt'altro però anche Levi come il suo Rabelais conosce bene la miseria umana così diceva Levi l'essenza del carnevalesco sta fondamentalmente in questo contrasto cioè il momento della gioiosa eccezione della licenza che spicca sullo sfondo di miserie che rappresenta la vera stabile condizione dell'esistenza anche in questo senso la tregua è un libro carnevalesco rabelaisiano perché come suggerisce il titolo il momento euforico che pure così presente e caratterizzante è un intermezzo rispetto a uno stato di guerra costante guerra è sempre dice uno dei personaggi cruciali del libro cioè il greco mordo naum e tregua anche rispetto a quella ferita insanabile inferta dal lager la natura dell'offesa qualche anno fa nel 1991 se non ricordo male un famoso scrittore inglese Martin Amis ha sottotitolato così uno dei suoi primi libri importanti cioè freccia del tempo o la natura dell'offesa time zero the nature of the offense ed è un libro che ha molto a che fare con Levi o ancora è tregua perché si può sempre precipitare trascinati dal suono del comando straniero nella notte eterna come sappiamo c'è la citazione che trovate al punto 4 in cui Levi riflette proprio sulla parola tregua la guerra stava per finire la lunghissima guerra che aveva devastato il loro paese per loro era già finita era la grande tregua poiché non era ancora cominciata l'altra dura stagione che doveva seguire né ancora era stato pronunciato il nome nefasto della guerra fredda erano così i russi i compagni allegri tristi e stanchi si compiacevano del cibo e del vino come i compagni di Ulisse dopo tirate in secco le navi il cibo il vino il corpo come momenti rablesiani di eccezione in un momento raro e transitorio di tregua e del resto la memoria di Ulisse è particolarmente significativa perché appunto nel canto di Ulisse il capitolo di se questo è un uomo quello che lei vi ricorda di Ulisse è l'episodio finale dantesco inferno 26 cioè il mare che si richiude su Ulisse e sui compagni quindi il momento di gioia e quindi vitalità è un momento appunto che finirà a un primo livello il modo carnevalesco si manifesta nella tregua proprio appunto attraverso i riferimenti al cibo il decimo capitolo intitolato come dicevo prima una curizetta che è un adattamento della parola polacca che vuol dire gallina o anzi gallinella prende il titolo proprio da un episodio emblematico cioè la ricerca da parte di Levi e del gruppo di compagni di una gallina da mangiare e per questo si recano in un villaggio vicino e cercano di spiegare agli abitanti prima parole poi a gesti poi infine a disegni quello che vogliono cioè un pollo una gallina è la citazione numero 5 del handout camminavamo nel buio attenti a non perdere il sentiero e gridavamo a intervalli dal villaggio non rispondeva nessuno quando fummo a un centinaio di metri Cesare si fermò prese fiato e gridò ah oh a russacchiotti siamo amici italianschi ce l'avreste una gallinella da vendere questa volta la risposta venne un lampo nel buio un colpo secco e il miagolio di una pallottola qualche metro sopra le nostre teste io mi coricai a terra pianino per non rompere i piatti ma Cesare era inferocito e restò in piedi ai mortè ve l'ho detto che siamo amici figli di una buona donna e fateci parlare una gallinella vogliamo mica siamo banditi mica siamo doice italianschi siamo ora è evidente come buona parte dell'effetto anche comico che è un attore migliore di me saprebbe restituire con maggiore espressività di questo effetto dunque una parte sia dovuta oltre che alla situazione proprio allo stile mimetico adottato da Levi e più in particolare a questa un po' straniante mescolanza nella lingua di Cesare tra inflessioni romanesche e maccheronici adattamenti alla morfologia polacca come italianschi oppure doice cioè tedeschi come prevede appunto la definizione di modo che ho dato poco fa il carnevalesco si esplica anche nei procedimenti retorico formali come capite qui nel brano letto è il dispositivo il procedimento attivato è diciamo il plurilinguismo su cui spesso il narratore della tregua insiste unendo proprio alla mimesi di lingue e dialetti anche una riflessione sull'uso della lingua anzi delle lingue anche in sequestro un uomo la lingua è un tema importante ma rispetto alla tregua le differenze sono essenziali sono fondamentalmente due la prima è che in sequestro un uomo si parla di lingua o se ne danno esempi campioni ma per lo più da una prospettiva analitica metalinguistica nella tregua le lingue vengono messe in scena la teatralità è una dimensione importante nella tregua e uno dei capitoli si titola proprio teatro per l'appunto la seconda differenza riguarda la connotazione di questo plurilinguismo in sequestro un uomo la varietà delle lingue è una babele è babelica provoca la distanza impedisce la comunicazione mortificando con ciò le facoltà individuali al contrario nella tregua la varietà di lingue è euforica corrisponde a una ritrovata libertà espressiva attraverso cui si può manifestare anche il genio del singolo come nel caso di Cesare o come nel caso del greco che parla tutte le lingue e se la cava in ogni situazione in certi casi la varietà linguistica e il tema del carnevalesco possono il tema del cibo diciamo il tema del cibo possono anche incontrarsi come nel brano citato al punto 6 quando al primo mattino spalancamo le porte si aprì ai nostri sguardi uno scenario sorprendentemente domestico non più steppa deserta geologica ma le colline verdeggianti della moldavia con case coloniche pagliari pagliai filari di viti non più enigmatiche iscrizioni cirilliche ma proprio di fronte al nostro vagone una casupola spilenca celeste di verde rame con su scritto ben chiaro paine lapte vin carnaciuri de purcell ho letto come è scritto non so se è l'accento giusto ma quel che conta è che sono parole rumene siamo appunto in moldavia dunque la familiarità evidentemente con le parole italiane corrispondenti è altissima dopo mesi anni ormai tra lingue del tutto altre il polacco l'ungherese eccetera e infatti davanti alla casupola stava una donna e treva abbracciate da un canestro ai suoi piedi una lunghissima salsiccia l'iperbolicità arablesiana appunto misurando la tese come si misura lo spago l'elemento della molteplicità che caratterizza le lingue usate dai personaggi nella tregua riguarda anche un altro procedimento formale a cui Levi spesso ricorre cioè la cosiddetta enumerazione caotica cosiddetta in un celeberrimo saggio di Leo Spitzer del 45 che non che Levi conoscesse Spitzer ma usa senza sapere questo strumento che serve a Levi nella tregua per esprimere una correlazione tra la provvisorietà storica ed esistenziale della condizione post Auschwitz da un lato una corrispondenza con la percezione di uno spazio vario mutevole opposto quindi all'ordine ossessivo e opprimente del Lager dall'altro lato l'enumerazione caotica in altre parole compone l'immagine stessa della situazione di tregua come quella tregua quindi ha due connotazioni positiva e negativa o meglio euforica e disforica questa seconda connotazione negativa o disforica compare di più nella seconda metà del libro quando l'aspetto vitale del caos tende a esaurirsi lasciando per lo più il posto a immagini logore a immagini antifunzionali di un mondo disfatto dalla guerra attraversato dal convoglio su cui Levi sta viaggiando connotazioni però che possono coinviere positiva e negativa che possono coesistere anche negli stessi brani nel capitolo il greco appunto Levi descrive come dire una sorta di caos primigenio usando tanto una sorta di eccitazione positiva quanto però dando voce a uno sgomento è la citazione numero 7 in quei giorni e in quei luoghi poco dopo il passaggio del fronte un vento alto spirava sulla faccia della terra il mondo intorno a noi sembrava ritornato al caos primigenio e brulicava di esemplari umani scaleni difettivi abnormi e ciascuno di essi si agitava in moti ciechi o deliberati in ricerca affannosa della propria sede della propria sfera come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi ora il titolo originariamente previsto per la tregua che era proprio nel contratto con Einaudi quindi deve essere rimasto nelle intenzioni molto a lungo era proprio vento alto e viene da questo brano che a sua volta cita riprende la genesi in altri casi le numerazioni tendono a rappresentare stati più netti o positivi o negativi per esempio nella descrizione del vivace mercato di Cracovia prevale decisamente l'aspetto euforico avete il brano appunto 8 vi si vendeva e comprava di tutto e tutta la città vi faceva capo borghesi vendevano mobili libri quadri abiti argenteria contadini imbottite come materassi offrivano carne polli uova formaggio eccetera eccetera l'accumulo e l'abbondanza la stravagante ricchezza munificenza hanno qui una connotazione decisamente positiva mi pare come segni tangibili dell'uscita dal mondo del concentrazionario regolato appunto da leggi rigide e assurde è sotto questa luce di caos liberatorio per esempio che Levi osserva e a questo punto a questa altezza tecnologica idealizza sì ovviamente l'unione sovietica punto 9 l'unione sovietica dice è un gigantesco paese e alberga nel suo cuore fermenti giganteschi fra questi una omerica capacità di gioia di abbandono una vitalità primordiale un talento pagano incontaminato per le manifestazioni le sagre le baldorie corali qui sembra veramente rabelè nel quadro di questa stravaganza vanno contemplati appunto i tratti rablesiani e pantagruelici che il narratore ravvisa negli oggetti e nelle persone l'eccesso e la difformità caratterizzano tanto le varie comparse qua e là nel racconto per esempio a certo punto il narratore incontra un dice un mongolo gigantesco dalle enormi mani eccetera che assomiglia a Stalin dice oppure incontra un cantastorie gigantesco anche lui e canuto oppure altri personaggi vestiti in modo bizzarro davvero come Arlecchini con pezzi di divise diverse e così via ma anche i personaggi principali hanno questi tratti appunto il solito greco mordo che assomma in sé molte delle caratteristiche emblematiche dei caratteri rappresentati qui da Levi ma l'abnorme non esprime solo il gusto per il carnevalesco con la dimensione sociale e di gruppo che il carnevalesco implica secondo Rabelè ma esprime l'abnorme anche la manifestazione esteriore delle ritrovate qualità dell'individuo la omologazione e anzi la disumanizzazione del Lager di cui parla in sequestro un uomo nella tregua vengono diciamo pure rovesciate nel loro opposto così se il prigioniero vedeva la sua umanità ridotta o negata i personaggi della tregua hanno invece un'umanità esaltata esorbitante da una parte c'è il difetto in sequestro un uomo nella tregua c'è quasi un eccesso insomma di personalità umana così ad esempio il personaggio di Noah quello che ho citato poco fa nel brano che avete riportato al punto 10 dice Levi è un personaggio come un uccello d'alto volo che incrociava dall'alba a notte aggirandosi per le camerate femminili come un principe d'oriente vestito di una giubba arabescata e variopinta piena di toppe e di alamari i suoi convenni d'amore sembravano uragani era l'amico di tutti gli uomini e l'amante di tutte le donne che deve come dice subito dopo ripopolare il mondo come dopo un diluvio il personaggio si chiama Noah appunto il spontaneo il confronto con Noè qui e altrove nella tregua si nota anche il ricorso a una metafora animale come un uccello d'alto volo che sono che però è una metafora dai connotati opposti a quelli di sequestro un uomo perché anche nel primo libro erano molto frequenti le analogie con il mondo animale ma lì sottolineavano la disumanizzazione e tendevano a esprimere la perdita di individualità i confronti più frequenti erano con il gregge o lo stormo insomma un insieme di soggetti senza individualità nel secondo libro invece l'analogia con gli animali esalta sempre le qualità più che umane dell'individuo con il progredire del racconto e dunque con la aumentata distanza nel tempo e nello spazio da Auschwitz le numerazioni caotiche tendono a rappresentare lo accennavo anche poco fa un contesto sempre più antifunzionale logoro uso qui le categorie di un famoso studio di Francesco Orlando sugli oggetti desueti nel capitolo vecchie strade ad esempio l'edificio in cui sono raccolti gli ex prigionieri reduci italiani detto la Casa Rossa l'abbiamo notato anche poco fa viene descritto così della Casa Rossa le scale costituivano l'elemento più ossessivo se ne trovavano in abbondanza nello sterminato edificio scale infatiche e prolisse che conducevano ad assurdi stambugi pieni di polvere e di ciarpame altre strette irregolari interrotte a metà da una colonna tirata su alla brava frammenti di scale sbilenchi eccetera scale che non portano a nessuna parte letteralmente antifunzionale più avanti nel capitolo penultimo Levi e i compagni si imbattono in un convoglio tedesco presi da euforia e anche da ansia di vendetta insomma di rivalsa perlomeno progettano di saccheggiare questo convoglio ma arrivano lì e trovano anche anche in questo caso oggetti rotti inservibili niente di cui possano da cui possano trarre la gioia della rivalsa insomma è proprio una estrema apparizione era la citazione 12 che non leggo è proprio una estrema apparizione del caos a segnare il finale del libro ma se il caos rablesiano aveva rappresentato un alimento della narrazione il caos raggelante su cui la tregua si chiude è la antitesi di quella gioia liberatrice del racconto quel caos infatti è un silenzio fatto spazio è figura della stessa angoscia di non di non poter raccontare o di non essere creduti angoscia che visitava Levi e gli altri prigionieri in sequestro un uomo in sogni ricorrenti anche nella tregua l'ansia è espressa nel sogno di un caos vuoto in cui Levi sogna di trovarsi una volta svanito l'altro sogno quello del ritorno a casa citazione 13 al procedere del sogno a poco a poco brutalmente ogni volta in modo diverso tutto cade e si disfa intorno a me lo scenario le pareti le persone e l'angoscia si fa più intensa e più precisa l'ultimo punto raccontare nel suo celebre studio su appunto tempo e racconto Paul Ricoeur scrive che il tempo diviene tempo umano nella misura in cui viene espresso secondo un modulo narrativo e il racconto raggiunge la sua piena significazione quando diventa una condizione della esistenza temporale queste frasi possono introdurre una mi pare una riflessione anche sulla forma e la funzione del racconto nella tregua racconto che per l'appunto assume una piena significazione direbbe Ricoeur e una energia dinamica anche attraverso un sviluppo temporale diverso da quello osservabile in Se questo è un uomo in uno studio dedicato proprio al confronto tra le strutture narrative di Se questo è un uomo e della tregua studio di recente incluso nella quinta serie della tradizione dei suoi libri intitolati La tradizione del novecento Pier Vincenzo Mengaldo osserva come nel primo libro di Levi prevalga lui dice con metafora musicale lo staccato lo staccato temporale tra un capitolo e l'altro per cui si avrebbe la sensazione che ogni volta il racconto ricominci da capo nella tregua invece prevalrebbe sempre con metafora musicale dice Mengaldo il legato come se le note venissero suonate senza interruzione senza silenzio l'impressione è generalmente corretta deve essere però precisata ulteriormente così credo che direi che infatti che in Se questo è un uomo si osserva più che staccato legato insomma una temporalità che direi estrinseca cioè imposta da fuori mentre nella tregua c'è una temporalità che è intrinseca cioè radicale radicata anzi nello sviluppo cronologico del racconto costitutiva anche in Se questo è un uomo infatti è vero che i singoli capitoli hanno una loro coerenza tematico-saggistica ma è comunque presente un principio di successione temporale stabilito però come del resto Levi sempre molto lucido interpreta di se stesso come Levi stesso scrive nella prefazione a Se questo è un uomo questi capitoli sono cuciti attraverso un lavoro di raccordo e fusione svolto su piano così dice Levi ecco quello che intendevo per estrinseco Levi fa cioè in modo di regolare la successione tra un capitolo e l'altro in base a dei nesti cronologici per esempio esplicitando all'inizio del capitolo di ogni capitolo il tempo trascorso a partire dall'evento dalla situazione centrale raccontati nel capitolo subito precedente il capitolo Le nostre notti per esempio di Se questo è un uomo comincia così dopo 20 giorni di cabè cioè l'ospedale del lager essendosi la mia ferita praticamente il piacere sono stato messo in uscita il capitolo precedente raccontava la degenza in ospedale quello dopo comincia dopo 20 giorni ne esco eccetera il criterio cronologico in Se questo è un uomo si afferma gradualmente diventa un vero principio connettivo verso la metà del libro in un capitolo intitolato proprio in base proprio attraverso una determinazione temporale cioè ottobre 1944 da lì in poi come vedete negli esempi che non leggerò per questione di tempo ma che vi ho riportato al punto 14 ogni capitolo comincia con un nesso temporale evidentemente effetto di un lavoro svolto su piano di fusione e raccordo come lo stesso Levi dice ecco per questo lo intendo per temporalità non assente non staccata ma estrinseca cioè che viene da fuori mentre invece il tempo nella tregua scorre partecipando al motivo della liberazione che caratterizza il libro nella citazione 15 Levi scrive che il tempo dopo due anni di paralisi aveva riacquistato vigore e valore quindi la temporalità che scorre è proprio anche un tema oltre che un elemento di struttura del libro in questo senso il cronotopo dinamico della tregua rappresenta il correlativo strutturale di uno dei suoi temi fondamentali in realtà poi altro elemento che rende problematica una netta distinzione tra i due libri su questo piano almeno in realtà poi anche il secondo libro anche la tregua è il risultato della somma di episodi significativi quasi come nella struttura cosiddetta aschidionata che peraltro giustifica l'aggettivo picaresco che spesso viene usato per parlare della tregua di lefi questa è una schidionata per episodi infilati come in uno spiedo uno dopo l'altro tipica appunto del genere picaresco e il primo peraltro a usare questa categoria fu proprio Calvino autore che non firma ma certamente lui del risvolto di copertina della tregua e forse anche parte in causa nella scelta di questa copertina questa copertina che è quella dell'edizione originale della tregua un disegno di Chagall scelto probabilmente dai vertici in Audi come era con suetudine forse da Giulio Bollati un disegno che esprime fiaba fantasia euforia volo liberazione eccetera radicalmente opposto a questo la prima sinistra è la copertina della prima edizione di Sequestro un uomo uscita dall'editore De Silva che è tratta da un disegno preparatorio per la serie disastri della guerra di Goya autore che poi era abbastanza caro a Levi che lo citerà che citerà alcune sue incisioni in altri in altri testi ma di base è la coincidenza tra lo svolgimento del viaggio e l'andamento del racconto a imprimere il movimento al cronotopo della tregua rendendolo conciò opposto a quello di Sequestro o No tale sviluppo tuttavia non implica una netta sempre una netta linearità e la dinamica del racconto segue sì un viaggio ferroviario ma non è sempre un modo di racconto realistico non sempre la materia trattata in chiave realistica in questo senso Levi almeno la tregua e anche alcuni suoi racconti sarebbero degli ottimi esempi per riflettere su ciò che oggi o almeno negli ultimi anni sta mettendo a fuoco la letteratura e la critica intorno alla letteratura della Shoah a livello internazionale cioè la rappresentazione non realistica ma allegorica dei fatti di cui parla per esempio Hayden White in un libro importante a cura di Friedlander su appunto il titolato Probing the limit of representation oppure addirittura realismo magico categoria usata anche per raccontare anche a proposito del racconto della Shoah c'è un stato di Jenny Adams Magical Realism in Holocaust Literature oppure ancora e questo invece è un saggio italiano realismo dell'eccezionale un libro del 2000 di cioè un'espressione che troviamo in un libro del 2000 di Alberto Casadei quindi lei si presta anche a questo tipo di approfondimenti ma quello che adesso mi interessa ancora dire e concludere su questo riguarda uno degli elementi meno realistici del racconto della tregua uno dei dispositivi narrativi meno realistici cioè l'incontro mentre i personaggi se questo è un uomo sono presentati in base alla pertinenza di ruolo e carattere con i temi dei capitoli cioè si stanno lì perché non possono che stare lì in ospedale si incontrano i compagni malati eccetera i personaggi della tregua invece appaiono scompaiono e riappaiono a distanza di tempo e di spazio distanze anche enormi soprattutto di spazio secondo le circostanze offerte dal caso così avviene per esempio per Mordo Naum figura che il destino mette sulla strada di Levi per ben tre volte sulla ritualità del numero sorvoliamo dopo un primo congedo alla fine del capitolo primo che gli è appunto dedicato Mordo riappare altre due volte forse era vero ma non però credibile direbbe direbbe Ariosto a riprova dell'incrocio nella tregua tra modo realistico e modo romanzesco il brano in cui si anticipano gli incontri lo avete riportato al punto 16 lo vidi ancora invece due volte eccetera ma Levi incontra più volte anche altre persone per esempio Galina una ragazza conosciuta nel campo di sfollamento che poi torna dopo molto tempo in un incontro dice Levi pieno di gioia e meraviglia un improbabile incontro quindi tematizza la stessa improbabilità ora oltre ad esprimere la riconquista di un destino libero che renda perciò possibile anche l'improbabile il motivo dell'incontro contribuisce a dare una connotazione spesso epica epica a volte eroicomica diciamo all'avventura e allo spazio spazio che come quello epico almeno di certa epica può dilatarsi e del resto non mancano riferimenti all'epoca l'omerica capacità di gioia come diceva prima a un certo punto Levi dice di sentirsi come nel campo diagramante eccetera avete qualche brano di questa questa linea ai punti 17 e 18 ecco episodi in cui emerge questa vena epicizzante celebrano anche la funzione liberatoria del racconto come strumento di esorcismo dai fatti dai fatti vissuti ma come si è detto all'inizio la tregua è un libro dai connotati ambivalenti e euforico sì ma anche disperato e disperante in Levi cioè le ragioni euforiche del romanzesco non si trovano mai disgiunte separate dalle ragioni storiche razionali fondamentalmente pessimistiche e questo vale anche quando l'equilibrio tra testimonianza reale realistica reale e romanzesco letterario sembra sbilanciarsi a favore del romanzesco torniamo al motivo dell'incontro e al personaggio che più vi è legato mordo il greco che riappare tre volte sull'incontro all'incontro ha dedicato uno studio famoso romano Luperini nel 2007 l'incontro è il caso narrazioni moderne e destino dell'uomo occidentale ecco in quel saggio Luperini distingueva tra l'incontro essenziale per la trama e per i valori che domina dalla letteratura antica fino al romanzo del primo ottocento dal distingue dall'incontro inessenziale che invece è quello che si marca i racconti i romanzi dopo la svolta storica del 1848 in cui le trame si inceppano le possibilità di azione sul futuro di formazione si spezzano ora gli incontri di Levi con il greco sembrano incontri essenziali determinanti per lo svolgimento della trama e per lo stesso modo del racconto ma anche per la comprensione del destino generale dei personaggi guerra è sempre appunto come ho detto dice proprio il greco nella tregua l'esito di questo incontro essenziale però è la rivelazione di una radicale impossibilità di pacificazione aspetto questo che già trasgredisce la funzione sostanzialmente positiva o almeno dinamica che gli incontri nella letteratura premoderna e soprattutto nelle narrazioni fiabesche a cui la tregua a volte tende hanno come sappiamo e come del resto già suggeriva la struttura della poesia da cui siamo partiti nella tregua la dinamica che muove il cronotopo il tempo e lo spazio si rivela alla fine apparente perché si riprecipita nella condizione iniziale era tutto un sogno la verità è svegliarsi ad Auschwitz con la voce polacca che ti dice alzati quindi questa rivelazione sebbene sia legata all'affermazione di un valore universale come quelli professati dal greco non ha una corrispondenza oggettiva con la realtà del mondo esterno nel mondo esterno la guerra è finita i superstiti hanno fatto ritorno a casa è il narratore il protagonista che sogna di sognare è per Levi che risuona il comando dell'alba proprio questa finale mancanza di sintonia tra il sentire del singolo e la storia con la S maiuscola rende inattuabile ogni ipotesi di formazione ogni vera riconciliazione e peraltro disattiva anche il carnevalesco che come insegna Baktini è una dimensione sociale non individuale in questo senso anche gli incontri come quelli col greco che sembrano essenziali nella forma si rivelano inessenziali nella sostanza perché nessun adattamento può essere possibile dopo Auschwitz perché non c'è nessuna formazione possibile non si impara niente non si esce da lì è su questa verità inconciliata che Levi imposterà e qui concludo davvero tanto la sua testimonianza nei libri più tardi per esempio il finale i sommersi e i salvati quanto la sua invenzione letteraria in libri di fiction vera e propria come i racconti di storie naturali che quando finisce la tregua sta per pubblicare grazie applausi grazie 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 nel frattempo mentre formulate domande magari ne approfitto io per fare una domanda ad una cosa veramente marginale a cui ha fatto riferimento direi alla alla presenza del a questo riferimento di Levi di aver portato con sé questa copia di Moby Dick gli aspetti dell'incontro tra l'epica in generale della grande tradizione occidentale e le costruzioni dei libri di Levi penso che sia una cosa che ognuno che si mette a leggere Levi lo trova immediatamente a pelle però questa è stata un po' una rivelazione per me e volevo sapere se era qualcosa su cui avevo riflettuto o su cui penso che ci sia qualcosa di più trovo che ci sia qualcosa nel modo di caratterizzare i personaggi di Melville che potrebbe essere molto interessante come confronto grazie per questa osservazione sì in effetti la avventura il romanzesco come appunto si diceva è proprio un tratto costitutivo del raccontare di Levi il confronto appunto con il male cioè un racconto che ha una sorta di euforia nella sua dinamica ma che poi è invece negativo nel suo esito in più questo riferimento a Moby Dick è anche ci dà anche un po' come dire il colore locale temporale cioè la sfera culturale educativa persino nella quale Levi si è formato appunto Pavese Torino Leinaudi e quindi era docente nei licei torinesi frequentati da Levi dunque era come un po' la voce di un padre pur così diverso da Levi per molti aspetti ahimè nonna nell'esito quindi c'è da un lato sì una importanza per per Moby Dick in sé insomma per per il testo insomma dall'altra per il traduttore di quel testo e per ciò che quel traduttore rappresenta per il giovane il giovane torinese non ancora einaudiano che però aspirava a diventare tale evidentemente e quindi è veramente un riferimento denso come tu hai subito notato sì volevo tornare un attimo sul discorso dell'enumerazione caotica secondo la definizione di di Spitzer che in Levi si può sembrare caotica per la grande quantità di questi termini giusto apposti che mi ha fatto pensare un po' essendo io un po' secentista di formazione a queste filatesse marignane quasi e volevo sapere quanto però oltre al al chiaro riferimento del carnevalesco di di Rabelais scusi ci può essere anche della sua formazione di scienziato in questa così attenta definizione del termine questo linguaggio che è evidente infatti lui che è un chimico di formazione sappiamo sì sì è giusto che quello che osserva che lei osserva cioè la capacità e quindi anche poi il gusto di Levi nel definire definire ciò che come nel caso delle citazioni che abbiamo visto ciò che gremisce uno spazio e anche quando si tratta di uno spazio affollato diciamo caotico insomma per questo sono riferito a quella categoria è però un caos che Levi si sforza di classificare ecco diciamo come se forse dentro lei giustamente ricordava era un chimico come se fosse dentro un laboratorio in cui sono tanti oggetti anche strani che però devono essere elencati in alcuni casi è più evidente in alcuni casi è veramente caos come quando sale sul convoglio e trova un po' di tutto ma per esempio il mercato di Cracovia c'è appunto sì questo grande affollamento ma è come se Levi cercasse quasi per istinto cercasse di definire per categorie c'è c'è il cibo ci sono altri tipi di oggetti cioè ragiona un po' per con un istinto alla classificazione che probabilmente si lega anche a certi a certe abitudini acquisite proprio conoscitive diciamo acquisite attraverso il lavoro il lavoro del chimico che che forse non è capitato di ricordare in questa oggi ma certamente è sempre essenziale se non ci sono altre domande continuo per ora continuo su questo perché la precisione di Levi anche negli elenchi anche nelle numerazioni è come potete immaginare insomma una delle grandi sfide per i traduttori di Levi appunto e proprio di Levi in questi recentemente in questi anni è uscita un'edizione completa delle opere inglese Levi è il primo autore italiano interamente tradotto nel quadro di un'edizione complessiva e organica neanche Dante insomma questo stesso di tutte le opere c'è un'edizione dei Complete Wars coordinata da Anne Goldstein grande traduttrice dall'italiano e anche studiosa di Levi evidentemente e Goldstein in un saggio non tanto nella prefazione dell'edizione ma in un saggio scritto a quattro mani con Domenico Scarpa in un'altra lingua riflette proprio su questo cioè come regolarsi con la precisione con la precisione di Levi e che è una sfida in doppio senso da un punto di vista così di codificazione del linguaggio eccetera ma anche c'è un po' il rispetto per una parola sempre esatta che tende a fare a far concepire a far percepire il testo di Levi come se fosse un testo sacro e questo è un effetto che Levi può provocare non che lui non che lui volesse provocarlo naturalmente ma la storia le vicende insomma portano a questo e un'altra cosa interessantissima è la corrispondenza cioè parole che possono essere anche parole molto comuni prendiamo offesa per esempio che ho citato però la tematica insomma della tregua che ricorre già in sequestro un uomo e la tregua diventa particolarmente importante torna nei sommersi e salvati e punteggia anche altri scritti come tradurre offesa ovvero a prestare attenzione a riconoscere lungo l'arco dell'opera di Levi l'uso di parole anche comuni come offesa che devono essere sempre tradotte con la stessa parola per rispettare questo arco questo sviluppo questa esattezza anche nella semplicità in sostanza ora ovviamente l'edizione Goldstein diciamo traduce sempre con offense e non è scontato o almeno non è scontato in tutte le lingue perché nelle edizioni francesi per esempio si trova tradotta la parola offesa quando ha questo significato morale generale eccetera ora come offense ora come insulte e questo fa perdere fa perdere certe per un minimo effetto di straniamento linguistico fa perdere certe corrispondenze quindi anche nel semplice anche nell'apparentemente comune c'è appunto un occhio all'esattezza come lei rilevava insomma certamente importante decisivo grazie insomma mi ha dato modo di sviluppare un piccolo argomento a margine ecco io vorrei capire qualcosa di più per quanto riguarda la copertina della tregua perché conoscendo insomma Shagat come tutti lo conoscono c'è questo librarsi in alto quindi è inteso come liberazione è inteso come distacco dalla terra è una scelta piuttosto radicale rispetto al contrasto con l'altra copertina quasi eccessiva ha ragione ha ragione soprattutto appunto rilevando il contrasto molto molto forte e certamente voluto cioè come nella prima edizione c'era un un disegno una bozza per un disegno eccetera così nel secondo libro c'è un disegno chiaramente chi ha scelto questa copertina e molto probabilmente era il dirigente di Enaudi che si chiamava Giulio Bullati anche italianista insomma anche letterato aveva in mente questa intenzione io direi che come interpretazione possiamo parlare sì di liberazione ma di liberazione non realistica appunto cioè non di una vera liberazione ma di una aspirazione alla libertà in una dimensione onirica come è sempre onirico sciagale come in particolar modo è onirico questo quindi c'è questo doppio questo doppio piano una copertina molto fine che non a caso nelle edizioni recenti questa finezza non si trova neanche lontanamente per molti anni la tregua è stata poi ristampata sempre insieme a Sequestonuomo quando è stata di nuovo ristampata come libro singolo negli anni nel 97 aveva in copertina la foto un fotogramma del film di Rosi film non particolarmente bello ispirato dalla tregua ed era la foto il volto di John Turturro l'attore americano che era che incarnava Levi insomma quindi appunto passa il tempo attraverso le copertine si può e in parte è stata fatta anche fare una storia della consapevolezza editoriale diciamo nell'Italia del novecento tornando però a Chagalli io direi che c'è appunto questo doppio passo liberazione ma onirica non realistica e poi c'è una sintonia con con la quarta anzi con il risvolto di copertina di Calvino insomma in cui appunto si dice che è un libro picaresco fantastico fantasioso volevo trovare basso insomma finisce così sotto questi due segni si svolge l'intero arco di libro il perdurare sotto cento aspetti palesi o segreti della pestilenza che aveva prostrato l'Europa e la scoperta di una nuova Russia vista di prima mano e dal di dentro volta a volta ridente o tragica picaresca o epica o oblobobiana lontana da un schematismo ideologico assai più vicina alla rappresentazione famosa di Pushkin di Gogol e di Tolstoi quindi forse c'era anche una volontà scegliendo Chagall di andare un po' in quella dimensione culturale insomma non proprio esattamente grazie a lei grazie mille per questa affascinante interessantissima conferenza io ho due domande in realtà la prima a che fare con la trasposizione di questi test in particolar modo se questo è un uomo ma la mia domanda era in realtà sulla tregua sulla trasposizione di questi test in testi teatrali io ho visto primo di Sir Anthony Cher e quindi mi domandavo se qualcosa di simile fosse stato realizzato sulla tregua e la seconda invece la seconda domanda è invece a che fare sulla sulla normatività che l'esperienza di Levi ha acquisito come memoria dell'esperienza della deportazione dello sterminio degli ebrei in Italia e quindi fino a che punto per quanto Levi sia assolutamente unico in questa condensazione di stile e capacità di riflettere sull'universalità di questa esperienza però fino a che misura non abbia impedito l'emergere di una letteratura memorialistica o di altri persone grazie sì certamente è accaduto questo naturalmente insomma del tutto involontariamente da parte di Levi ma qui entriamo in oggetto di riflessione molto importanti che riguardano direi almeno due coordinate cioè il genere e il campo nel senso proprio burdesiano del termine cioè il campo culturale come luogo virtuale in cui le forze economiche non solo simboliche si si incontano si scontano e si affermano l'una sull'altra per il campo la prima cosa da dire è Einaudi cioè la forza simbolica culturale di Einaudi che ha sempre pubblica tutte le opere di Levi fin dal 58 pur avendo rifiutato se questo è un uomo nel 47 appunto ha determinato un successo maggiore cioè è un marchio che è un produttore di canone fortissimo in Italia lo è persino oggi che Einaudi è qualcosa di completamente diverso da quella monda quell'epoca e quindi insomma questo è detto in maniera molto banale come posso dirlo io che non sono un sociologo della letteratura però è un aspetto di campo l'altro aspetto di genere perché dico di genere perché ci sono delle bellissime bellissimi scritti di memoria letterari insomma di di Edith Brook che certamente forse dopo Levi forse tra i più conosciuti ma per esempio di Liana Millu che che appunto ha scritto così opere importantissime il fumo di Birkenau consideriamo che poi le sopravvissute ad Auschwitz hanno visto cose che Levi non ha visto cose assai più dolorose gravi perché Birkenau era come dicevo prima dove c'erano i forni e poi il fumo il fumo di Birkenau e Levi era a Monowitz invece un campo che distava sei chilometri un sottocampo di Auschwitz annesso a una fabbrica di gomma della IG Farben quella grande azienda chimica da cui poi dopo la guerra sono nate la Basf cioè sono separate la Basf la Bayern eccetera eccetera quindi quello che hanno visto Liana Millu e altri testimoni è assai più crudo e appunto i suoi romanzi no romanzi è limitativo è impreciso diciamo le sue memorie le sue testimonianze sono forti quanto è più quelle di quelle di Levi che certo ha però un così equilibrio stilistico costanza profondità di riflessione abbastanza unici ma non tanto unici da giustificare questo quasi oblio insomma intorno agli altri comunque completa estraneità rispetto al canone cioè bisogna essere un lettore o studioso di letteratura italiana della Shoah per conoscere un po' gli altri Bruno Vasari insomma anche quindi anche anche altri reduci però è vero quello che lei dice che Levi ha un po' assorbito tutto lo spazio gran parte dello spazio il teatro sì dunque i testi sia se questo è un uomo che il tego hanno avuto trasposizioni teatrali radiofoniche anche che Levi ha seguito ha apprezzato diciamo anche una versione radiofonica fatta all'estero mi pare in Canada se non mi ricordo male e in questo caso della tregua mi pare di poter dire che l'aspetto che emerge è proprio il plurilinguismo insomma la pluribocità la polifonia ecco se vogliamo usare questo termine che trova particolare efficacia cioè attraverso lo sviluppo dei dialoghi quindi la struttura teatrale consente di dare un risalto a quella che è come abbiamo come ho cercato di dire anche oggi una comunque delle caratteristiche del raccontare nella tregua che quando si passa dal raccontare al rappresentare diventa diventa ancora più evidente più presente e così via ecco non so se ho risposto parlando appunto del campo dell'influenza di Levi e della possibilità che Levi abbia in qualche modo censurato le altre voci volevo chiederti siccome sono totalmente ignorante di questo qual è stata anche l'influenza sul campo non solo italiano ma anche diciamo sul campo europeo perché da forse da ripeto da ignorante sul tema però l'esperienza così come è stata descritta da Levi difficilmente si trova descritta in altri autori anche fuori dall'Italia ecco almeno per quello che io apprezzo e conosco se magari hai qualche coordinata in più da darci non solamente sull'Italia ma su altre voci certo cioè allora non so appunto se è anche una questione di poi alla fine di gusto e di competenze però sono d'accordo e del resto un po' si diceva anche con la signora cioè lo sforzo anche di comprensione definizione anche attraverso lo stile appunto di Levi è abbastanza unico anche rispetto ad altri che pur notevolissimi scrittori che però magari hanno avuto anche esperienze più brevi o laterali penso a Jorge Semprun per esempio che è uno scrittore eccezionale però rispetto però che solo tardivamente anzi si ha raccontato la sua esperienza e quindi insomma anche rispetto a Levi non è paragonabile e anche per questo forse Levi è un termine di paragone internazionale tanto che è persino troppo da un certo punto di vista tanto che è curioso per esempio leggere saggi teorici e critici sulla letteratura della Shoah o la Castro di Hitler eccetera in cui naturalmente Levi c'è sempre un capitolo su Levi almeno e Levi potrebbe essere un autore ungherese potrebbe essere un autore francese cioè la italianità di Levi è quasi completamente o in molti casi almeno è rimossa cioè la sua appartenenza nazionale che non vale di per sé ma per esempio vale come formazione culturale naturalmente vale come livello stilistico ma quando lo si legge in traduzione ovviamente non sempre è possibile percepire quindi la sua influenza la sua più che influenza direi quasi così annessione a un campo internazionale della letteratura della Shoah ne sfuma ne sfuma certi certi caratteri come spesso è inevitabile che sia con i classici e Levi certamente lo è ma anche considerando che la letteratura sulla Shoah o sull'olocausto preferisco dire Shoah ma insomma ci capiamo è cioè ha un un centro propulsivo un fuoco di studi nel mondo non italiano nel mondo anglosassone angloamericano eccetera e spesso con risultati critici molto notevoli talvolta con quei limiti qui però passiamo dalla critica letteraria alla rappresentazione artistica in generale quei limiti che sono stati chiamati appunto americanizzazione della Shoah penso a uno scritto di Annette Vivorka insomma polacca francesizzata che parla proprio che ha coniato l'espressione americanizzazione della Shoah in questo senso anche in maniera non generosa però c'è qualcosa di che si capisce in questa espressione in fondo è un po' Levi è stato un po' annesso questa edizione di questa edizione della di Ann Goldstein è molto importante secondo me per questo perché appunto è un'inizione complessiva in cui si può vedere tutto l'arco del pensiero anche di Levi tradotto bene e quindi può essere non una tradizione scusate non una traduzione come dicono i traduttologi etnocentrica ovvero una traduzione che assimila l'autore tradotto alla cultura ricevente ma può essere invece una traduzione che valorizza gli aspetti originari dell'autore tradotto più di quanto non sia avvenuto finora in America ma anche in Francia anzi in Francia non esiste neanche un'edizione complessiva se non mi sbaglio per cui appunto la cosa è ancora più più rilevante grazie non so se ho risposto io inviterei tutti a continuare la discussione però con un bicchiere in mano e di ringrazio ancora il professor Scafai grazie a voi grazie a voi